Musica Torna anche quest'anno il prestigioso premio Ziret d'Oro, un appuntamento culturale e sociale molto atteso in città, visto anche il successo delle scorse edizioni. L'evento si terrà venerdì 9 dicembre alle ore 17.30 presso l'auditorium Carispac. In questi giorni anche l'uscita del volume speciale 99, rivista di lettere, arti e presenza culturale, diretta dal nostro direttore Mario Narducci, che apre con un suo editoriale dal titolo La cultura che fa la città. Una approfondita analisi sulla nostra L'Aquila che non c'è più, la città sperata è in attesa, scrive Narducci, mentre insiste quella finta di sola facciata, come nel film western, la cui scena si ravviva solo quando partono i colpi della colta nei duelli alla Leone. Convinto sostenitore di uno degli eventi culturali più prestigiosi come lo Ziret d'Oro, noi ci sentiamo ancora città. E se torneremo ad esserlo anche concretamente è perché non abbiamo mai smesso di essere città.